E' Manolo Rallo, il nuovo allenatore della formazione Juniores della Battipagliese. Rallo ha allenato l'Eurocalcio, la Scuola Calcio Bellizzi, la Juniores del Real Bellizzi, l'Inter Casali, il Real Bellizzi, Virtus Picentini, lo Sporting Corvino e il Vignale Calcio. La società bianconera, inoltre, nelle scorse ore ha tesserato il calciatore Antonio De Martino. Classe 2001, De Martino è un difensore centrale cresciuto calcisticamente nella Niké, prima di passare a Faiano e poi alla Pro Salerno. Grazie.